Mi chiamo Bartomieu e ho 220 anni. Questa è la storia della mia vita. Cosa Lega, una caverna decorata da strane immagini preistoriche, ha un manoscritto del 1307. Nessuno lo deve scoprire. Un terribile segreto che risale a 30.000 anni fa sta per essere rivelato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS